musica intanto mi fanno l'audienza a tutti eeeh non posso continuare più ragazzi la storia perchè mi viene troppo difficile e complicato fare sempre un video di 20 minuti e caricarlo che con mio computer un sacco poi ragazzi mi viene un sacco difficile poi ho saputo che la storia è molto molto lunga quindi ragazzi mi hanno detto che era 23 capitoli e 24 capitoli e ho detto basta io ho il terzo e sto morendo quindi ragazzi non posso continuare la storia di Call of Duty di Uncharted 4 poi come seconda cosa ragazzi vi volevo dire che ho acquistato come si dice il DLC ragazzi di The Rise and Dragon che io non avevo fino ad ora perchè ragazzi non ero certo di acquistarlo poi i miei amici mi hanno detto qual è meglio quello o quello e poi mi hanno detto no meglio The Rise and Dragon e quindi io l'ho comprato quindi ragazzi ora ci farò qualche video poi vediamo se in futuro posso fare le storie di Shadow to Evil ragazzi che ci stiamo cercando di lavorarci da tanto tempo e poi anche quello di The Rise and Dragon che sembra più facile di quello di Shadow to Evil non lo so voi se l'avete già fatto dintemelo nei commenti e poi come terza ragazzi e ultima cosa che vi volevo dire volevo parlare della serie di Minecraft allora ragazzi l'ultima volta che io ho fatto un episodio di Minecraft che è stato un piccolo problema non so se mi si sono cancellato tutti gli oggetti delle mie casse ragazzi perchè in pratica sono andato in creative perchè non mi ero perso dalla casa e quindi ragazzi ho pensato che l'unico tentativo per andare a casa era la creative mod che è la creative la creative allora ragazzi quando ho messo però di nuovo la survival ho visto che le mie casse erano vuote ora non so ragazzi se appena siccome mi ero messo una mod ragazzi perchè in pratica i trucchi non c'erano quindi ho dovuto mettere una mod per poter essere in creative quando adesso tolgo la mod ragazzi non so se troverò di nuovo tutti i miei oggetti io non troverò più niente quindi ragazzi casomai niente continuerò la mia serie senza gli oggetti che avevo prima senza tutto però ragazzi almeno il mondo ce l'abbiamo ancora quindi niente comunque ragazzi per questo video di notizie sul canale è tutto spero vi sia piaciuto e niente ci vediamo bella ragazzi